Cittadini che come detective privati svolgono indagini dettagliate filmando quanto accade, amministratori locali che ricevono i video in forma anonima e denunciano alle forze dell'ordine quanto scoperto dai compaesani. Accade in Alta Padovana dove due centri massaggio sarebbero anche case d'appuntamento ed ora sono state segnalate alla polizia locale e denunciate ai carabinieri. Tutto è partito da una busta trovata a Cittadella sul tergicristallo della sua macchina dal consigliere provinciale Luigi Sabatino. Dentro una lettera di poche righe, affidiamo a te questi video perché nessuno ci ascolta, è una chiavetta che conteneva due filmati dal contenuto inequivocabile, secondo le didascalie girati in due centromassaggi orientali. Sabatino ha subito avvisato Fabio Miotti, assessore al commercio di San Giorgio in Bosco. Proprio a San Giorgio sarebbe stato girato il primo video che porta la data del 20 novembre. Le immagini di una telecamera nascosta che rimane sempre accesa sono inevitabilmente un po' scure, ma i dialoghi, chi ha realizzato il video e aggiunto anche i sottotitoli, sono chiari. Il secondo video è datato 22 novembre, il copione è sostanzialmente lo stesso. Sabatino e Miotti, dopo aver avvisato il comandante del distretto di polizia locale, hanno sporto denunce ai carabinieri. Speriamo che questo episodio si tramuti in un messaggio chiaro, hanno detto, l'illegalità qui non è ben accetta.